Volevo appunto rappresentare questo frate che noi siamo molto affezionati, un giorno quando vide arrivare stato il frate che era poco raccomandabile perché stu frate dava fastidio sempre alle gondadinelle che gravitavano intorno ai convegni allora come stu padre Alessandro vede stu frate gli fa attenzione perché io te conoscio, so che razza di frate si se te vedo che dai fastidio alla gondadinella qui sotto che taglia sempre l'erba io te fa il rapporto e poi te fa manna via stu frate gli fa ma che scherza a priori io so cambiato io ho sbagliato in gioventù ma oramai per carità so che stu frate lo scappa da stu convento con stu messale e incontra sta condadinella che capopulata sta battaglia all'erba ovviamente quando una donna sta in quella posizione l'occhio dei due altri uomini ci casca perché gli si tira tutto quindi automaticamente l'occhio te casca, stu frate cercava di non guardargli ma dando l'occhio ci cascava a un certo punto guarda sulla finestra di stu convento vede che tutte le finestre erano chiuse allora stu frate buttava via stu messale se attacca con una ma sulla sottana con una ma tirava sulla tonica, con una ma alla sottana, con una ma alla tonica però capiscete ci vuole una maspiccia non lì bene, ce l'aiutasse allora stu frate tribulava come un animale dopo un quarto d'ora gli aveva l'occhio su un convento vedere un padre guardià che stava affacciato che gli faceva cocire stu frate di corsa lascia tutto ma su gli si butta lungo per terra priore mi deve perdonare, la carne è stata debole stu frate gli fa io te vulio di a sottana con i denti con i denti da sottana per estrade le campagne a Cina con l'Upennazzo è un frate le montagne che gli piace a pallavò a riconda di nemici e se tu baci stu cordò i peccati te scancello e te do la soluzione un priore che ha saputo e gli ha vinto e ste cose non se fa tu lo sai che è il peccato e l'ho cercato la faccenda di Mattà è passato quasi un mese e stu frate ha sospirà un cordoglio si è mattito non lo vuole più fermà un priore l'ha capito e gli ha detto sin di qua fatto in giro là in campagna qualche pecora ci sta ma l'Upennazzo è un frate che ha risposto a le pecore non è polipascià c'è le donne fatte apposta con le donne io l'amore voglio fare cubri ore sti pruriti ce l'ha ut in gioventù e stu frate chiude nocchio qualche orta a tutti tu e da padre su gli dice fallo ma con devozio il signore te perdona anche se si un mascarzò ero frate notte tempo con i cinza e una maglietta e un blusò fate corsa in discoteca e per trovare una donna e facce l'amore ero frate notte tempo con i cinza e una maglietta e un blusò ha trovato una ragazza che gli ha sistemato il cordoglio è